Pescara che si conferma inarrestabile in trasferta, quarto successo consecutivo. In queste situazioni mi piace trovare un po' il lato negativo, non so se è d'accordo, queste partite vanno chiuse. Sì, devo dire che è evidente che abbiamo rischiato fino alla fine, sin troppo, e potevamo ancora una volta chiudere la partita con anticipo. Già nel primo tempo abbiamo sprecato delle occasioni, però volevo sottolineare comunque che abbiamo affrontato una squadra che è quarta su 60 per possesso palla. È una squadra che per numero di passaggi è tra le prime della Serie C, e quindi vincere qui è sicuramente una nota di merito per la squadra. Non soffrire credo sia una cosa magari poco reale, e quindi la squadra è stata brava a soffrire, forse troppo, diciamo che perché abbiamo creato i presupposti per poter avere la palla per il 2-0 con De Zogu, e poi anche nel secondo tempo sicuramente si poteva fare meglio. Però finché soffriamo e poi riusciamo a portarla a casa, tutto passa tra virgolette in secondo piano, perché poi ci dobbiamo lavorare su questi aspetti. Però come si diceva, non è mai facile su ogni campo andare a ottenere un risultato sempre positivo, e l'abbiamo portato a casa. Magari a volte meno belli, ma siamo diventati anche più concreti, soprattutto nella fase difensiva, nel secondo tempo più decisi. Abbiamo lasciato meno situazioni, soprattutto nella prima fase, e poi negli ultimi cinque minuti abbiamo rischiato decisamente, però è sicuramente un grande risultato. Allora, andiamo a fare qualche analisi di questa partita. Pronti via, subito il gol, dopo forse una leggerezza tra Bobben e Palmiero che poteva costare caro, De Zogus gioia e dolori, perché il controllo, la stersata che ha fatto per procurarsi il 2-0 è da categoria superiore, la conclusione no. Ecco, se c'è una cosa bella che io voglio sottolineare, entra Loi e cambia l'intensità del centrocampo, entra Crecco. La squadra ne trae giovamento, segna anche bentornati a due giocatori importanti. Assolutamente, sono giocatori che possono dare un contributo notevole come gli altri a questa squadra. Quindi la squadra ha indubbiamente 24-27 titolari. È chiaro che va trovato il momento giusto per poterli girare e far sì che rendano tutti al meglio. Ma la cosa principale deve essere nello spogliatoio questa capacità di soffrire quando non si gioca ma reagire quando si viene chiamato in causa. E questo credo che sia la prerogativa per avere un gruppo forte. Finora l'ha dimostrato, per cui siamo sulla strada buona e dobbiamo continuare così, anche se di partite come queste ce ne saranno tantissime. Io chiedo un'ultima cosa prima di dare la linea allo studio. La mia domanda è questa. Con una squadra che va quattro volte in trasferta e vince quattro partite, le Corazzate, Crotone e Catanzaro sono lì a tre punti, è una squadra che da oggi vuole il primo posto, lavora per quello? No, no. Lavoriamo sul fatto di migliorare noi stessi senza guardare gli altri, senza guardare la classifica. È chiaro che ci teniamo e le vittorie poi ti portano ai piani alti della classifica. Ma credo che l'obiettivo oggi sia quello di costruire, lo ripeto ancora per l'ennesima volta, costruire qualcosa all'interno dello spogliatoio che poi quando si esce sul campo venga messo in pratica da parte di tutti i giocatori. Chiaro che poi, come altre squadre importanti, anche noi abbiamo dei giocatori importanti, sia con una certa esperienza, sia giovani. E questo può essere un mix che alla fine ci potrà dare soddisfazione. Ma non poniamoci limiti, non poniamoci obiettivi, perché tutto è raggiungibile e chiaramente tutto è migliorabile. Domande da studio per il tecnico Colombo che vi ascolta. Sì, domanda da parte di Gianluca Colonnello. Gianluca. Buonasera mister. Innanzitutto complimenti per il risultato e per il suo lavoro, perché si vede in campo in breve tempo non facile, perché sappiamo tutti che non è semplice arrivare a questo standard di gioco e soprattutto come ha creato questo gruppo in breve tempo. Però volevo chiedere cosa manca, perché ho visto create tanti presupposti per chiudere le partite e manca sempre un pizzico di qualità nell'ultimo passaggio o nella chiusura dell'azione. Quindi chiedo mister, la pensa come me? Sì, indubbiamente. La differenza poi nel calcio, mister lo sa anche lei, è che sono le scelte e le scelte fanno la categoria del giocatore, per cui molto spesso noi arriviamo o creiamo come squadra dei presupposti e poi manca magari un giusto movimento per attaccare l'area di rigore oppure anche i tempi e la qualità dell'ultimo passaggio della rifinitura. Quindi lì dobbiamo lavorare ed è un discorso abbastanza, credo, non breve, perché le scelte vanno lavorate ma poi aspettano sempre al singolo giocatore. Quindi noi dobbiamo creare le situazioni che si possono creare, ma sono molteplici quelle che si possono creare in partita, per cui dobbiamo metterli in questa situazione e fargli capire che in determinate situazioni ci sono tempi, scelte e movimenti da fare, però credo che sia magari un lavoro un po' più lungo da fare, ma non impossibile perché comunque, come diceva prima Colonnello, nessuno pensava che all'inizio della stagione, a questo punto della stagione, la squadra fosse un gruppo, ecco, un gruppo unito, solido, anche in campo, e lo si vede, quindi forse sì, prendiamoci a volte i meriti come staff, ma poi l'unione dentro lo spogliatoio è quella che fa la forza, quindi a volte potrei essere l'allenatore più scarso dell'universo, ma avendo dei giocatori forti ti fanno apparire molto più bravo di quello che sei in realtà. Quindi contento di avere questi tipi di giocatori. Una domanda flash. Sì, vai Massimo, veloci l'ultima. Velocemente, mister, ecco, ieri ho ascoltato la conferenza stampa di Vivarini, allenatore del Catanzaro, la vigilia di Andrea Catanzaro finita 0-4, ha detto testualmente, siamo consapevoli qui a Catanzaro che Crotone e Pescara sono superiori. Ma non so... Ma non bleffato, dai. Ma non voglio né nascondermi né dire che Vivarini ha detto una cosa, probabilmente ha voluto alleggerire la pressione, ma tanto lui la può alleggerire quanto vuole, tanto sono gli altri che gliela mettono addosso, per quello che ha fatto il Catanzaro con Vivarini lo scorso anno e per quello che è stato il mercato del Catanzaro. Quindi è inevitabile che la pressione ce l'abbiano anche loro, giustamente, soprattutto loro, direi. Una cosa sola, vorrei ringraziare, visto che mi è arrivato un messaggio da parte dei tifosi del Monopoli, soprattutto dei distinti, perché hanno portato uno striscione per me, dandomi forza o cercando di sostenermi da lontano e quindi devo ringraziare pubblicamente questi tifosi e anche tutti i tifosi che mi stanno vicino. In più voglio dare un'anticipazione positiva, nel senso che le prime analisi dicono che non ho nessun tipo di problema e quindi posso tranquillamente andare avanti.